E vedo Paolo che stava in piedi, appoggiato al portoncino, un po' come se stesse per svenire. Era quella la prima impressione che ho avuto io. Spalle alla porta, come se stesse per svenire, fu Giuseppe Stasi, papà di Paolo, il primo a soccorrere il figlio di Ciannovenne Moribondo sulle scale di casa, colpito da due proiettili esplosi dalla pistola e impugnata dall'allora minore Luigi Borracino, reo confesso dell'omicidio del 9 novembre del 2022. La mia percezione era il fatto che qualcuno avesse buttato dei petardi dentro le scale e quindi probabilmente per lo spavento la cosa Paolo si stesse sentendo male. La testimonianza di Pino rappresenta uno dei momenti più toccanti dell'udienza del processo in corte d'assise a Brindisi perché ricostruisce quel tragico giorno, perché incalzato dal PM Giuseppe De Nozza prima e dal giudice Maurizio Sasso poi, il papà di Paolo chiarisce alcuni punti della vicenda. Ma ha perso conoscenza davanti a lei? Sì, mi guardava, cioè io quando stavo scendendo le scale mi guardava come per dire che è successo, che mi è successo, che è... e allora sempre gridavo, no Paolo, Paolo, che c'è, che c'hai? La mia impressione è che stesse per svenire, c'era un malore. E invece no, non era un semplice malore. Paolo Stasi, 19 anni, morirà poco dopo ucciso dando inizio alle indagini che a maggio dello scorso anno hanno portato all'arresto dei due presunti killer. Motivazioni futili secondo gli inquirenti che collocano il delitto in un contesto legato allo spaccio e al consumo di stupefacenti in cui anche la madre di Paolo sarebbe rimasta coinvolta. Sua moglie ha mai fatto consumo di sostanze stupefacenti davanti a lei? No. No? Perché lei mi pare che sia contrario. Sì. Grazie.